salve in questo video e nei seguenti vorrei parlare del software open source di montaggio non lineare sinelera gg in italiano si trovano pochi video in generale e nessuno per la versione più aggiornata che è un fork in verità prodotta da good guy e numerata come 5.1 sinelera io lo pronuncerò così d'ora in poi è un software molto potente di livello professionale ma anche di difetti non si è mai diffuso molto contribuisce il fatto che esiste solo per linux prima di cominciare devo avvertire io sono un principiante assoluto e questa è la mia prima incursione nel mondo del montaggio audiovisivo quindi non aspettatevi competenza e trucchi da professionisti il mio approccio sarà di seguire pedisseguamente il manuale approfondendo le spiegazioni più ostiche e cercando di fare più esempi possibili per chiarire il funzionamento del programma molte parti le tralascerò mentre altre non le ho nemmeno capite anzi se qualcuno me le vorrà spiegare mi farà contento le principali parti del manuale di cui non parlerò sono l'installazione e l'approfondimento su codifiche importazioni e render finale inoltre mi fermerò dopo aver spiegato spero esattamente i comandi dell'interfaccia il funzionamento di base i plugins più avanzati e l'uso approfondito li rimanderò a quando sarò più pratico con sinelera e con il mondo del montaggio video in generale parlando del manuale ufficiale devo spiegare ce ne sono addirittura tre il primo si chiama the secret of sinelera ed è fatto dall'autore originale il geniale adam williams naturalmente in inglese ed è il più vecchio e mai più aggiornato poi c'è il manuale di sinelera cv cioè della community version che è da considerare il manuale base anche questo in inglese a parte una parziale traduzione italiana e lentamente aggiornato infine c'è l'addendum di 180 pagine che riguarda le variazioni e gli aggiornamenti portati su sinelera gg a cura dello sviluppatore good guy che è il più attivo e sforna continui aggiornamenti seguendo la mailing list di sinelera si nota che appena gli utenti segnalano un bug o richiedono una nuova feature good guy risponde subito e sforna una patch nel giro di pochissimo tempo sembra una cosa incredibile eppure è vera in questi video data la loro natura elementare sfrutterò parecchio manuale cv e lo integrerò in molte parti con il gg visto che questa è la versione che userò ho scelto di imparare questo software non solo per la sua completezza di funzioni ho iniziato infatti provando che damn live ma purtroppo mi si bloccava in continuazione siccome sono l'unico a cui succede così spesso credo ci sia una incompatibilità col mio sistema linux ma non riesco a venirne a capo ho provato anche shotcut e flow blade che promettano molto bene ma sono ancora un po incompleti per imparare a lavorare da ubista avanzato non ho provato lightworks e nemmeno da vinci risolve le cui versioni light sono gratuite perché quando ci sono alternative mi oriento sempre sul software open source in linux comunque a giudicare dai tutorial su youtube penso che chi si avvicina al mondo del montaggio video con ambizioni che vanno oltre le basi da vinci risolve sia un programma fantastico che ha come punti a favore una color correction che è di riferimento per quasi tutti i professionisti ed in più si basa sull'editing con i nodi invece su livelli questo è per dire che pur piacendomi tantissimo sinelera non sono così ottuso da non saper giudicare il resto a proposito delle alternative non parlerò del classico avid media composer perché non lo conosco affatto ed inoltre non gira su linux e nemmeno di final cut perché è solo su mac anche se a vederlo usare fra programmi professionali sembra il più facile ed immediato di tutti parlerò invece un poco di adobe premiere pro che è sicuramente il più potente diffuso editor video rivolto a professionisti ma anche questo non gira su linux come tutti i programmi adobe aiaiaiai adobe flesso e pregi si possono citare 1 potenza efficienza e ricchezza dei suoi strumenti 2 workflow intuitivo e ben supportato da un'intera suite di programmi 3 la comodità nell'usare i livelli anche se personalmente preferisco nodi 4 supporto alle loot look up table che vanno tanto di moda ma sono davvero utili oggigiorno i professionisti applicano le loot come base e poi personalizzano secondo occorrenza 5 supporto a tutti i formati e codec in maniera trasparente rapida ed efficiente insomma è un programma adatto agli hobbisti evoluti e soprattutto a quei professionisti che sono a sa grande maggioranza che io chiamo matrimonialisti cioè che devono ottenere un risultato per il cliente velocemente e comodamente magari preferendo delle buone automazioni ad un più lento e profondo controllo sul risultato intendiamoci non voglio essere offensivo col mio appellativo penso infatti che ben descriva quella figura professionale autonoma o con al massimo alle spalle piccoli studi che deve pensare e lavorare su tutte le fasi del processo dalla ripresa al montaggio alla vendita al cliente magari impiegando solo poco tempo così da passare subito ad un nuovo cliente è questo il bacino di utenza più grande e bene fa adobe a rivolgersi a loro adesso la sua diffusione contrastata si sta avvolgendo anche all'ambito del broadcast televisivo e di produzione cinematografica che finora è stato solamente appannaggio di avid e di altri software sviluppati internamente il broadcast le grandi produzioni hanno un tipo di professionalità diversa da quella dei matrimonialisti sono infatti costituiti da riparti segmentati ognuno con i propri compiti che si passano uno dopo l'altro il fall intermedio lavorando solo su aspetti specifici così non è importante una grande compatibilità coi vari codec come a premiere serve solo uno stabilissimo supporto all'unico formato di lavoro da loro scelto sinelera è stato creato pensando a questo ambito di professionismo o meglio è nato quando tutti i software professionali erano copier di avid e tutti gli altri erano dilettanteschi la cosa è cambiata con l'arrivo della versione gg o 5.1 del buon good guy che l'ha molto arricchita e aggiornata spostandola nettamente verso il desktop i difetti di sinelera sono parecchi e alcuni anche gravi 1 workflow molto stratificato e quindi più complesso non aiuta l'interfaccia a finestre separate che è sempre stata detestata dai matrimonialisti per me questo non è un difetto mi è utile proprio per imparare in modo più approfondito 2 il supporto e la stabilità nel lavorare con vari tipi di codec che non è mai stato il punto forte di sinelera né in input e nel render oggigiorno comunque come ho già detto la versione 5.1 si basa completamente su ffmpeg e la capacità di gestire codec è migliorata tantissimo e il problema quasi completamente superato 3 la mancanza di supporto alle lat look up table unito al fatto che i plugins per la correzione colore sono sì molto potenti e completi ma non molto precisi nell'uso tutti questi fatti rendano questa fase quella della color correction lenta e delicata 4 mancanza di importazione diretta dai handcorder bisogna ricorrere ad un qualche programma esterno di gribbing di vgraib per esempio 5 non c'è uno storico di backup se ne può realizzare solo uno e successivi rimpiazzeranno il precedente così non potremo contare su varie revisioni di un lavoro o scegliere quali far partire fra backup di lavori diversi 6 mancanza del calcolo supportato da gpu la scheda grafica insomma magari con opencl o cuda concludendo sinelera è adatto al broadcast televisivo e agli studi cinematografici ma in questo campo non potrà mai avere successo a causa della sua natura open source e quindi alla mancanza di certificazioni garanzie assistenza e hardware dedicati si ritrova cioè ad essere un prodotto fuori mercato insomma non sembra adatto a grandi studi e nemmeno a matrimonialisti anche un eccesso di mezzi per l'obbista generico che vuole solo pubblicare su youtube vimeo eccetera ma lo stesso vale anche per premier e tutti gli altri software di livello professionale in realtà funzionerebbe più che bene in tutti questi ambiti e quindi è solo il non conoscere la sua esistenza oppure l'ambiente linux oppure il primo impatto visivo la sua interfaccia il suo workflow che ne frenano la diffusione di conseguenza anche la comunità di sviluppatori resta piccola e l'adeguamento agli standard e alle tecniche moderne molto lento in pratica c'è solo good guy per la 5.1 e einar runcaru per la cv bene ora io scoraggiato tutti i possibili utenti dall'imparare ad usare sinelera vi voglio elencare le caratteristiche principali e punti di forza di questo bel software 1 offre più di una strada per affrontare il lavoro 2 non ha molti plugins ma sono tutti di sostanza e di alto livello comunque nella 5.1 sono stati aggiunti plugins di ffmpeg e di ladspa incrementandone parecchio la quantità 3 notevole capacità di post produzione e compositing superiore a quella di tantissimi altri programmi 4 potenza immediatezza e facilità nell'uso delle curve del keyframe e delle maschere questo è un aspetto bellissimo di sinelera e lo vedremo più avanti 5 ricchezza e potenza della finestra del compositor impostabile in vista telecamera per l'input e in vista proiettore per l'output 6 leggerezza nell'uso delle risorse del pc che si traduce in boot veloce riproduzione senza lag e manipolazione sulla timeline fluide questa formazione però è basata solo esclusivamente sulla mia esperienza che è piuttosto limitata 7 supporto per il rendering distribuito cioè in una render farm 8 potenza del batch rendering che usa un file di testo che si può configurare a piacere ed anche importare in programmi esterni 9 tipo di editing non distruttivo come tutti i programmi NLE tra l'altro 10 potenza e rinchezza dell'editing audio quanto pare era nato proprio per l'editing audio la parte visiva è stata aggiunta successivamente 11 si possono aprire più istanze del programma e farle interoperare fra di loro per svolgere i compiti complessi 12 è open source e gratuito non mi dilungherò sull'open source per evitare le classiche flame che sempre si creano in questi casi comunque per me è uno dei punti più importanti direi che come chiacchierata introduttiva al programma è durata fin troppo nel prossimo video analizzeremo approfonditamente l'interfaccia e faremo esempi su metodi di editing delle clip nel prossimo video